Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Power Wash Simulator. Io sono Glaciosphere ed oggi giocheremo a Pulisci la Giostra. Esattamente, puliremo una giostra dei cavalli. Vi ricordate sicuramente da bambini, ci sarete andati tantissime volte. Andiamo, nel frattempo vi invito subito, vi ricordo di mettere un mi piace al video, iscrivervi al canale, condividere questo video e commentare, facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo videogioco. Detto ciò, Stacy Pici ci dice Psst, artista delle pulizie. Mi sono appena aggregata a un Luna Park itinerante che attualmente si trova nell'area ricreativa, forse ci avrei visti. Ho comprato una bellissima giostra vintage, ma non vorrei essere messa in ombre dei proprietari delle attrazioni più appariscenti, è piuttosto sporca. Volevo pulirla da sola, ma poi ho pensato, oh senza H tra l'altro. E se calcassi troppo la mano e la rovinassi? Chi mai vorrebbe scendere lentamente lungo uno scivolo a spirale infangato se può vibrarsi leggero in una giostra lucida e sprendente? Falla vibrare come non mai e saremo entrambi felici. Io sarò felice perché tu mi pagherai 500 dollari. Arriverai in un furgone anonimo, giusto? Non voglio che la concorrenza abbia la stessa idea. Sì, arriverò in un furgone anonimo, guardiamo i dettagli, ecco qua, belli. Il messaggio e iniziamo. L'obiettivo di questa mappa è spegnere la giostra completamente senza spegnerla, quindi questo pulsante noi non la toccheremo. Magari diventeremo un po' balordi, ma lo faremo comunque. Allora, perché non sento il volume? Perché le cuffie non vanno, ok. Ora vanno, perfetto, ed ora sento l'acqua. Bene, detto ciò, vi ricordo che durante il livello io parlerò poco perché voglio che vi godiate il rumore SMR di questa idropulitrice e vi godiate lo sporco piuttosto che il mio commentary, cioè lo sporco che viene pulito piuttosto che il mio commentary di roba inutile, dato che qui non c'è molto da commentare. Detto ciò però direi di cambiare l'accessorio. Esatto, è tornare con questo che direi che va più che bene. Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. 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 a tutti.